Ciao a tutti ragazzi sono Orco Verde, in questo video vi mostrerò tutte le nuove cose che la Rockstar ha rilasciato tramite il DLC di San Valentino. Se non avete visto il video precedente che ho caricato prima di questo video vi invito a guardarlo, in quel video ho mostrato le maschere del DLC di San Valentino che la Rockstar ha rilasciato oggi su GTA 5 Online. Se devo essere sincero questo aggiornamento mi ha un po' deluso in quanto la Rockstar si è sprecata, non ha aggiunto nulla in più rispetto agli anni precedenti. Perlomeno potevano aggiungere qualche cazzata giusto per farci spillare qualche soldo sulle console next gen, invece manco quello ragazzi. Sul sito leggendario Motorsport si possono ora acquistare le due Albany Roosevelt. L'Albany Roosevelt costa ad un prezzo scontato di 562 mila dollari, mentre l'Albany Roosevelt Valor ad un prezzo scontato di 736 mila dollari. Questa sarebbe la Albany Roosevelt Valor, mentre quest'altra è la Albany Roosevelt normale. Se vi state chiedendo quale differenza c'è tra la Albany Roosevelt normale e la Albany Roosevelt Valor, è che l'Albany Roosevelt Valor ha più modifiche da applicarli allo Santos Custom, quando appunto l'andrete a modificare. Poi ci sono i soliti vestiti, ci sono giacche del completo a doppio petto, ci sono camicie da business, magliette, pantaloncini, pantaloni del completo e scarpe eleganti, che vi sto mostrando velocemente ora nella clip del video. Se volete vedere tutti i vestiti che la Rockstar ha rilasciato tramite questo aggiornamento di San Valentino, vi invito a guardare il video che ho caricato l'anno scorso riguardo sempre i vestiti del DLC di San Valentino. Troverete il link del video nella descrizione sotto questo video. Infine la Rockstar Games ha rilasciato due nuove mappe della modalità competizione finché morte non vi separi, la mappa numero 6 e la mappa numero 7 di questa modalità competizione. Niente ragazzi, questi sono tutti i contenuti che la Rockstar ha rilasciato tramite l'aggiornamento del DLC di San Valentino. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi ha deluso anche voi o meno. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video sui social network e da Orko, vedete tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!